E allora, ottava giornata della X Edition della Star League, la prima di ritorno, rincampo si ritrovano Ammers e Liverpool come nella prima partita della prima giornata a pistone. In quella partita terminò 4-3, segnò Grausso negli ultimissimi minuti, il gol del 4-3 che lanciò poi Ammers a 3 punti nella prima partita di questa stagione. Ora la classifica vede il Benevengo in testa a 18 punti, punteggio pieno in 6 partite, a 6 partite con 16 punti c'è il Napoli che ha pareggiato la prima partita proprio domenica scorsa contro il Liverpool, 3-3. C'è il Liverpool al terzo posto con 10 punti, 6 partite giocate, fin qui gli Ammers sono a 9 punti in 4 partite, ne hanno perso solo una, quella contro il Napoli, dovranno però recuperare 3 partite addirittura sul calendario perché se non fermi a 4 devono ancora giocare anche contro il Benevengo. Cambia poco dietro, vincono a tavolino il Wolves e si portano a 9 punti in 7 partite, intanto c'è un ripallo e la palla entra, Bobby Grausso 1-0. Occhio a lui, chiaro lanza, destro sul muro. E allora le formazioni, gli Ammers si schierano con Scala, De Gregorio, Pulcrano, Santaniello, lì dietro non cambia niente, Grausso con Botta, anzi Botta gioca a destra. Quindi Pulcrano a centrocampo con Grausso, più avanti Ibra, Esposito. Il Liverpool schiera nuovamente tutti i 9 giocatori così come c'è stato contro il Napoli. Tafuri, Riccio, difenza. A sinistra vediamo chi c'è, dovrebbe giocare Alto Mei. Contro i dente, delle meraviglie, chiaro lanza, pistone piccolo, Giangiz piccolo. A me lo sei a Miranda, i gemellini sono lì fuori. No, vai, siete gemelli, se no me siete scambiati dalla nascita. Siete molto simili, cioè avete i lineamenti simili. Che scuro, ma che è? Perché sei più scuro di a Miranda? Botta, Pulcrano, De Gregorio. Ancora Botta, non la trova, c'è Alto Mei in chiusura. Poi Riccio, Pistone. Taglia il capo, palla sul sinistro, eccolo, angolo. Calcio d'angolo, Pistone, sinistro, cercare, azzi. Molto corto, Botta, la palla non esce. Tafuri. Parte il lancio, Pistone, la gancia. Piccolo, Riccio. Possesso Liverpool, difenza. Ancora Pistone. Provata a girare Ibra. Le lunghe leve, scontro tra due giocatori molto alti. Difenza. Grande partita su Prisco. Giorgio completamente annullato domenica scorsa. Grauso scende, tocco dentro. Tafuri. Che fa Tafuri? Tafuri! No! Cosa ha fatto Tafuri? Botta, porta, vuota. Eh, però io almeno andavo in rete. Bobby Kraus, 2-0. Chiaro Lanza, attraversa, ecco il primo squillo. C'ho con la testa, sta proprio felice. Chiaro Lanza. Pallone di Perriccio, va con le mani, immediato. C'è contatto e punizione. Non era male il primo dribbling. È il terzo e ti è mancato. Pistone sul muro, poi al Tomei. Si va con le mani di Santaniello, Ibra. Si gira, c'è difenza. Poi Tomei. Allarga Giangiz. Molto basso, pressato alto da Pulcrano che lo abbatte. Pistone. Ancora il tocco, per piccolo, attaccato alle spalle. Ancora Giangiz. Cerca il movimento di Pistone, che aggira a Grauso. Pulcrano. Buona la finta. Poi Esposito riparte, destro. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, forte in mezzo. Cambiano i terzini del Liverpool. Miranda Moroso per Tomei e Riccio. Chiaro Lanza. Zona tiro, prova. Pallone per Santaniello, che addirittura vuole provare. C'è stata una deviazione. E sono anche calcio d'angolo. Anzi, non è uscito Tomei, è uscito piccolo. Amoroso va a centrocampo. A parte il pallone forte in mezzo. Grausola, incolla. L'appoggio, botta. Tiro forte. Miranda e via Ibra. 2-0 Ammers. Dei gol presi nell'arco di pochissimi minuti. Pulcrano è fuori. Pulcrano forse non entra. Attenzione, un in meno per gli Ammers. Problemi fisici per Pulcrano. Ammers con un uomo in meno. Difenza. Prova addirittura e porta. Scala. Occhio, perché l'aveva persa. Botta. Pulcrano prova a rientrare. Pallo di chiaro l'anzo. Proverà addirittura a Grausola centrocampo. Prova forte, Tafuri. Santaniello prova qualcosa. Vediamo difenza. Verticalizza. Controllo di chiaro lanza. Tocco dietro al Tomei. Pistone. Ibra con le lunghe leve. Anche Pistone. Ultimo tocco è di Ibra. Grausola ruba il pallone ad Amoroso. Che poi rincorre e recupera. Solo scendi Tomei. Ha affionato il pallone Amoroso. Tomei. Va da Amoroso. Zona tiro. Allarga Pistone. Vediamo se rientra. Preferisce andare sul destro. Poi ritorna sul sinistro. Pistone prova. Serie di deviazioni. Va ad Altomei che ci prova. Grauso. Altomei su di lui. Difende la sfera Grauso. Altomei che... Ha peraltro pallone. E poi va giù. Palla con le mani che occhio Grausola. Quasi la sua mottonella. Bracciato da difenza. C'è calcio di punizione. Botta. Da Furi. Si va con le mani. Chiaro Lanza. Tutto solo. Prova col destro. Palo. Sterno però. Guarda l'uscita. Colpito il paletto di fuori. Scala. Lancio lungo. A Miranda. Sant'Aniello. Grauso. Agira bene. Amoroso. Calcia. C'è un pallone alto. Sant'Aniello copre bene. Rimessa per Altomei. Che batte a pistone. Serie di rimpalli. La rimessa è per pistone. Tomei. Pistone. Tomei. Rimpallo. Grauso. Anzi Pulcrano. Pistone resiste. Fitta al sinistro. Vada a Miranda. Cerca il pallone dentro. Pulcrano che risolve. Valla. Rilancio lungo. Chiaro Lanza di testa. Occhio che... Mette quasi in difficoltà la difenza. Poi Chiaro Lanza. Mamma mia. Il crano gestisce. Pallone rischioso. De Gregorio se la cava. Poi botta. Prova ad accelerare. La rimessa è sua. Si va con le mani di botta. Grauso di prima. Difenza lontana. Chiaro Lanza che allarga. Altomei. Serve pistone. Controllo. Prova a guizzare via. Non era male il palleggio. Pallone però intercettato. Allora Miranda con le mani. Difenza. Tomei. In incontro. Amoroso. Un po' di nervosismo lì in mezzo. Difenza sale. Ancora per Amoroso. Finta di corpo. Cerca il pallone a pistone. Buona ragnatela del Liverpool. Si crea lo spazio per il tiro. Calcio d'angolo. Palla dietro. Botta. Ancora una volta sul primo. Ancora una volta a botta. Attentissimo. Le mani di botta. Cerca. Grauso. Salta difenza. Amoroso. Palla lunga. Amoroso. Sbatte su Grauso. Difenza. Occhio all'errore. Esposito. Piccolo. Pallone verso Amoroso. Rimane in campo pistone. Chi ora riceve? Ancora lui. Sbraccia contro Santaniello. Ancora pistone. Non la perde. Vada Amoroso. Una cannonata. Santaniello. Grauso col tacco. L'ultimo tocco di Amoroso. Le mani di Grauso che lascia l'incarico a Santaniello. Ok. Centimetri di esposito all'inaria. Riceve Grauso. Spalla alla porta. Recupera il Liverpool. Rimpallo su Grauso. C'è una punizione. Chiaro Lanza. Piccolo. Sbaglia. Pulcrano. Timido. Ancora Pulcrano. Stavolta botta. Finta. Cerca Grauso. Poi c'è un rimpallo. Arriva Amoroso in gran corsa. Perde l'attimo però. C'è un fallo. Pallone sul secondo palo. Grauso di testa. Tafuri così e così. Poi la trova. Piccolo. Botta in anticipo. Botta finta. Pistone. Tiene il pallone in campo. Tocco dietro. Rimessa per il Liverpool. Occhio ad Amoroso. Palla per Piccolo. Sistema il pallone. Per Chiaro Lanza. Rimbalzo. Altro cross. Troppo di testa. Destro. Largo di Piccolo. Pistone. Se ne va così. Sterza. Vuole ancora il sinistro. Prova. Fuori di nulla. Scala. Lancio. Sposito. Di testa. Spizza. Grauso. Sul fondo. Amoroso. Cerca il pallone verso Pistone. Allarga Piccolo. Ibra che riparte. Si allarga. Poi sterza. L'attacca Miranda. Porta spasso il pallone. Esposito. Si va a incanalare in zona di campo. Pericolosa. La perde. Piccolo. Allarga da Moroso. Cerca la conclusione. Deviata. Scala. Botta. Rimane giù. Esposito. Grauso. Ripallo. Botta. Ancora Grauso. Destro. Fuori. Chiaro Lanza. Amoroso. Cerca il pallone. Palla che passa a metà. E allora Pulcrano che prova a salire con il pallone ai piedi. Pulcrano. Deviata. Sbaglia. Esposito. Col destra. Chiaro Lanza. Piccolo. Si allarga Miranda. Riceve Pistone. Pallone un po' dietro. Pistone per Piccolo. Imbucata. Piccolo allarga. Chiaro Lanza. Arriva. La finta col destro. Mette il piede Santanemma. Ancora Chiaro Lanza. Ancora Santanemma. Allora si va con le mani di Amiranda. 1-2. Tiro cross. Difenza. Chiaro Lanza. Un po' di spazio. Zona tiro. Prova. Chiaro Lanza. Ancora lui. Altro gioiello. Mamma mia. Che sta combinando in questa stagione Raffaele Chiaro Lanza. 2-1. Prova Grauso. Curato dalla barriera. Andi col di Chiaro Lanza. Sono già ne ha collezionati almeno 3 o 4 di questa caratura. Santanello. Sta fuori. Porta il cross. Anzi. Pull Crane. E termina anche il primo tempo. Siamo 2-1 per Yammer. Pallerete subito. Ha segnato Giancic. Subbattuta diretta all'incrocio dei pali. Peccato che la cam quando premi play è un po' sfocata all'inizio. Ma proveremo comunque a cercare di renderla nitida quanto più possibile sul premier. Ma qua è un'altra magia. Sulla conclusione diretta dalla battuta per Giancic. Piccolo 2-2. Incredibile. La riprende il Liverpool. Tutto da rifare per Yammer che avevano collezionato il doppio vantaggio nel primo tempo. Gol di Chiaro Lanza allo scadere del 25 minuti. E ora subito 2-2 in apertura di secondo tempo. Tomei. Difenza. Sciabola. E' un solito a Renzo. Voli! Peccato. Sfocato il tiro di Piccolo. Mannaggia. Era bello eh. Sfocato. Porca troia. Vediamo Piccolo. Va col tacco. Pulcrano. Recupera. C'è botta largo. Riceve ora. Occhio perché Ammers Liverpool può regalare veramente dei colpi di scena così come all'andata. Dove più o meno eravamo sul 3-1. Poi 3-3. Poi 4-3 all'ultimo istante con Graus. Si aiuta dentro. Si aiuta dentro. Dentro. Si aiuta dentro. Occhiato di Gregorio. Sposito dalla bandierina. Parte un cross. Perdono centimetri però con lui che va a battere. Porta il pallone era sotterra stavolta. Pulcrano. Tafuri. De Gregorio. Rete. Colpo di scena. Un serie di rimpalli. 3-2 Ammers. De Gregorio. Primo gol di stagione. Ci prova la sotterra. Occhio. Scatenato piccolo. 3-2. L'aveva ripresa il Liverpool. 90 vantaggio Ammers. Partita infinita. Come da pronostico. Piccolo in aria. Piccolo. Lavora il pallone. Per qualcuno. Contatto. Contatto. Di la prossima. C'è il destro. Alto di Chiaro Lanza. Non da lui. Stavolta non da lui. Quasi un calcio di rigore. Per Chiaro Lanza. La punizione è al limite. Pistone Tomei. Sale. Sterza. Vada Pistone. C'è largo Riccio. Tocco centrale. Poi ora Riccio. Che può arrivare in corsa. L'ultimo tocco è il suo. Si va con le mani. Tacco di Grosso. Sta fuori. Si va con le mani verso Piccolo. Sale lui. Taglia il campo. Chiaro Lanza. Piccolo allarga Riccio. Controllo. Pallone per. Chiaro Lanza. Altro cross. Arriva. Riccio col destro. Chiaro Lanza. Spalla alla porta. La rimessa è per il Liverpool. C'è Giangiz che fa saltare. Marcato da botta. Pistone mezza 3. Palla per Giangiz. Botta di testa. Poi continua a correre. L'ultimo tocco è il suo. La rimessa è per Altomei. Che cerca subito Piccolo. Il controllo di Piccolo. Il palleggio. Botta ancora. Inesauribile. Con le mani Piccolo. Pistone. Ancora per Piccolo. Botta su di lui. Pistone fa il giro. Piccolo taglia. Vediamo se serve qualcuno. Difenza. Occhio. Tafuri. Ancora difenza. Palla per Pistone. Vuole il sinistro. Tomei. Lavora il pallone. Interessante. Pistone. Usce Scala. Porta vuota. Pulcranu. Con le mani Pistone. Vanno a saltare in due. C'è fuori aria. Chiaro Lanza con l'esterno. Murato. Ancora Chiaro Lanza. Pistone. Ritmo molto alto. Ancora Pistone. Difenza. Prova. Il destro. Variccio. Occhio in aria. Pistone. Riceve sulla tre quarti. Vediamo se allarga. Rientra. Ancora a tagliare il campo. Sinistro. Largo. Colpetto. Ibra. Botta. Pallone ancora per Ibra. Esteticamente oggi da rivedere. Lo stile di Ibra. Questo stile è un po' così. Vediamo Chiaro Lanza. Contro due. Mette il piede Esposito. La pari messa è per il Liverpool. C'è Giangiz. Tutto solo. Palla ancora a Pistone. Attaccato da Esposito. Ancora con quattro leve di 6,20 metri. Si contrasti. Vediamo difenza. Scarico centrale. Scala miracolo. Scala miracolo. Botta. Lancio lungo. Nessuno la trova. Tafuri per difenza. Pressione Liverpool. Sul 3 a 2. Parte il destro. Mura col di dietro Pulcrano. E allora ancora. Chiaro Lanza. Pallone a Pistone. Allarga piccolo. Allarga piccolo. Che punta Grauso. Sbaglia il passaggio. Esposito prova a ripartire. Ancora Esposito. La palla esce. Occhio a Pallone alto. Grauso la tiene. Fa il giro. Arriva Pulcrano. Zona tiro per lui. Ci prova. Amoroso. Amoroso. Chiaro Lanza. Prova da lì. Scala. Che bomba di Chiaro Lanza. Pistone. Palla ancora dietro. Velo. A Miranda a sinistro. Santanillo prova a riverticalizzare per Grauso. Che continua a correre. Ma la palla esce. Tafuri. Pallone a Miranda. E intanto Santanillo riparte. Prova ad andare. Non riesce a saltare l'ultimo uomo che era amoroso. Poi c'era solo Tafuri. Con le mani Santanillo. Vuole il pallone Grauso. Palla dentro. Grauso non la trova. Arriva. Botta. Largo. Difenza. Pistone. Sbaglia il controllo. Santanillo che riparte con velocità. Ibra. Sinistro. Mamma mia. Largo di poco. A Miranda. 3 a 2 Amers. Prova il lancio. Scala. La tiene con sicurezza. Si va da botta. Pallone. Di là. Occhio a Tomei. Si ferma mettendo fuori caso a Graus. Amoroso. Gioca sempre davanti alla difesa. Pallone per chiaro lanza. Cerca ancora Tomei. In pallo. Ha perso però un po' di campo il Liverpool. Forse col doppio mediano. Invece del fantasista come Giangiz. È calato anche Pistone. Questo momento. Vediamo. Tomei. Pallone largo. A Miranda. Cerca il pallone di prima. Pulcrano. L'aggancia. In via. Sul suo avversario. Santanello con l'uomo addosso. Rimessa. Con le mani Santanello. Va in giocata lunga. Pulcrano deve concedere la rimessa. La rimessa è per Tomei. Amoroso. Controlla. Tomei. A gira Grauso. Si va direttamente alla difesa. Cerca il pallone verticale. Gran palla per... Chiaro lanza. Scala. La ingoia. Va lungo. Tomei. Pistone di testa. Direttamente a Tafuri. Che va lungo. Botta. Recupera. Parte il cross. Lungo. Lancia Tafuri. Palla lunga per tutti. Tranne per Scala. Che c'è che lancio lungo. C'è Grauso. Difenza. Sbaglia. Grauso. Grauso. Fuori. Occasione di Toro per Bobby Grauso. Per raddoppiare il match. Fallita. Si va con le mani di... Amoroso. Dentro. Botta. Sale in cielo. Riparte Botta. Velocissimo. Botta. Prova l'assist. Tafuri. Si riparte. Pistone. Generosissimo. Vincenzo a Botta. Pistone sale. Verticale. Ancora Botta a chiusura. Con la palla che... Carambola. E allora saltarello con la roulette. Ma regala la palla al pistone. Prepara il sinistro. Ancora il duello contro Ibra. C'è fallo. C'è fallo. C'è fallo. In posto. Ok. Posso dirtici a un certo punto? Meglio come dire uno più scorso. Però mentalmente è lucido. Che uno che sai danni i numeri. Carlo. Cioè tu sei un uomo a lui, no? Si va con le mani di botta. C'è Grauso contro difenza. Palla dentro. Grauso. Non la trova. Pistone. Va in verticale. Palla a chiaro Lanza. Che rientra. Non ha il sinistro. Allora cerca il corridoio. Palla dentro. Buona l'azione. Salta Ibra. Difenza. Ultimo uomo. Controlla. Arriva incontro a Ibra. Grande pallone per... A Miranda si addommenta un po'. Comunque resiste. Sbaglia amoroso. Enzo. Enzo. Grauso abbracciato. Pulcrano fuori. Amoroso. Sbaglia il tocco. Un po' in confusione. Qualche elemento del Liverpool. Poco lucido oggi. Poco concentrato. Partita molto solida fino ad ora degli Ammers. Sbagliato. Chiaro Lanza. Pulcrano recupera. Poi... Amoroso. Con un buon guizzo. Poi però concede calcio d'angolo. Ciò fa tempo per favore. Va bene. Calcio d'angolo. Vediamo. Sposito batte. Occhio. Anche alla posizione di diretta. Porta qui però nessuno la prende. Allora piccolo. Può andare lui con le mani. Va da pistone. Controllo di petto. Chiaro Lanza che taglia. Pallone ad amoroso. Serve un pallone a chiaro lanza. Cerca Amoroso. Ancora amoroso. Con le mani amoroso. Dentro. Scala. Calcio d'angolo. Palla dentro. Pistone altissimo. Mascala con i piedi dal fondo. Vediamo. Botta largo. Lo vuole. Botta. Controllo. Così e così. Pistone. Affonda a sinistra. Parte il cross. Non c'è nessuno dentro. Santanello che alza. Tutto solo Grauso. Grauso pallonetto. Bobby Grauso. 4 al 2. Arcomaleno all'Avion. Raddoppiano gli Hammers. Chiaro Lanza. Prova lui. Fuori. Botta. In via di Gregorio. Tafuri con le mani. Occhio a questo pallone a metà. Grauso la trova. Poi però esagera. Piccolo. Punta la difesa. Calcio di munizione. Pistone o piccolo? Tre in barriera. Più che la lanza disturbare. Pistone. Rete. 4 a 3. 4 a 3. Grauso. Murato. Santanello prende la ricorsa. Gioca il pallone alto. Molto alto Grauso. Difenza. Calcio d'angolo. Gioca il pallone alto. Come mi ti fai? La pelle. Ma è scopola all'aria. Ma pensate a ci fare. Bravo. Botta. Cross. Secondo palo. Amoroso. Svetta. Rimessa. Hammers. Si va con le mani di Santanello. Occhio a Dibra e Grauso. Palla dentro. Salta Grauso. Da fuori. Va lungo. De Gregorio. Perde il contrasto. Poi c'è fallo. Va Pistone. Punizione. Forse a 2. Il tocco di Amoroso. Pistone. Finta. Sinistro. Sul muro. Poi. Ancora Pistone. De Gregorio. Lungo. Calcio d'angolo. Parte il cross. Secondo palo. Chiaro Lanza. Si coordina la finta. Destro. Rete. Chiaro Lanza. In buca d'angolo. 4 a 4. Prova. Botta sul muro. 4 a 4. Partita è finita. Occhio a Piccolo contro Grauso. Palla dietro. Palla dietro. Pistone. Cerca il traversa. Poi Chiaro Lanza porta vuota. Successo di tutto. Mamma mia. Pistone. Pistone. Aia. Fallo. Va ancora Chiaro Lanza. Altra punizione. Zona centrocampo. Vediamo. C'è il fischio dell'arbitro. Fa Chiaro Lanza. Occhio alla. Bomba. Scala. La tiene. La tiene. Tomi. Tomi. Guardala. Pignano in avanti. Si va con le mani in avanti. Tomei. Copre. Parte il lancio di diagonale. Chiaro Lanza col tacco. Difenza. Occhio. Pallone dietro. Tafuri. Tomei. Vediamo se arriva da Tafuri è così. Pallone è un po' corto. Tafuri va lungo. Chiaro Lanza. La gancia. Salgono. Pistone e piccolo. Chiaro Lanza. Cerca un contatto. Si va nella banderina. C'è calcio di punizione alla fine. Pistone. Molto. È un calcio d'angolo con barriera a due minuti alla fine. Vediamo. Pistone. Chiaro Lanza. Grauso ha capito tutto. Salva il risultato con il proprio corpo. Si va ancora con le mani. C'è Amoroso. Palla dentro. Pulcrano. Alto. Mei. Sbatte. Amoroso. Porta vuota. Chiaro Lanza. Il match point sul piede. Pazzesco. Palla fuori. Si allunga Grauso. Ma è contro tre. Pallone però per Ibra. Salta. Grauso la trova. Tafuri. Con la manona. Botta in anticipo. Esce dai ranghi. Prova a riconquistare la posizione. Scala. La tiene. Si va con le mani. Grauso. Grauso. Cerca la finta. Ancora Grauso. Tomei. Chiaro Lanza. Botta. Spara di Gregorio. È tempo che passa. Siamo sempre 4 a 4. Amoroso. Chiaro Lanza col tacco. Si incrociano. Attenzione coi piedi. Scala. Va con le mani in avanti. Cerca Bobby Grauso. Controllo. Occhio ai minuti finali. E occhio a Grauso che ha risolto molte partite in questa stagione. Agli ultimi secondi. Vediamo. Con le mani in Liverpool. Con le mani amoroso. Dentro. Pistone. Controllo. Si gira. Illumina. Alto Mei. Prepara. Il sinistro. Sul fondo. E anche calcio d'angolo. C'è stata una deviazione. Occhio a quell'area di rigore. Può succedere di tutto. Parte cross. Porta vuota. Botta. Riparte. Aia. Aia. Botta. Falciato. È l'ultima. Forse è l'ultima. Vediamo. Pulcrano. Proverà. L'all in the box. Vediamo. Occhio grasso di difenza. Vediamo. Parte il lancio di Pulcrano. Direttamente porta. La palla esce. 4 a 4. Si dividono la posta. Liverpool e Ammers. Dopo una grandissima partita.